Ciao ragazzi, buon venerdì pomeriggio. Allora oggi entriamo un po' nel dettaglio, non nei nomi perché ne escono tanti e quindi dovremo aspettare e vedere però un attimino come sembrano muoversi, almeno su che idea tattica sembrano muoversi Moncada, Furlani e Pioli che avrà in questo nuovo organigramma da dire la sua. Così, un'impressione in base alle voci che stanno uscendo. Prima però vi ricordo, siccome serve a far crescere il canale mettete un like, non costa nulla, iscrivetevi, non costa nulla e campanella per le notifiche. Vi ringrazio a prescindere ma se lo fate fate crescere il canale, grazie. Una cosa, video di stamattina su l'ennesimo articolo del New York Times, vi invito a vederlo se non l'avete visto, riguardanti i debiti del cinesino di Viale Padova. Non ho intenzione di portargli fortuna con questi argomenti, non ho intenzione, non è un'ossessione, non è che devo parlare per forza di loro. È una questione di giustizia. È una questione di competizione leale. È una questione di giustizia per tutti allo stesso modo. La Juventus è stata penalizzata, ha perso la Champions League perché ha fatto delle cose irregolari. Qui siamo di fronte, siamo di fronte, e ce lo dicono dall'America, il più famoso giornale del mondo probabilmente, a una questione debitoria di dimensioni enormi, che falsa i risultati sportivi. Lo ripeto perché è questo il punto della questione. Falsa i risultati sportivi. Non ci sarebbe finale di Champions, non ci sarebbe Scudetto, non ci sarebbe... Scudetto non c'è lo stesso, ma ipoteticamente. Non ci sarebbe Supercoppa, non ci sarebbe Coppa Italia, se ci fosse un organo di controllo che tiene d'occhio queste situazioni finanziarie disastrose. E non perché lo dico io, ma perché lo dice il New York Times. Ho fatto un sondaggio sulla community per chiedere se, dopo le notizie che sono uscite anche ieri, la federazione non dovrebbe impedire a chi ha questa montagna di debiti e continua a accumulare debito per pagare debito, per pagare debito, accumula debiti, su debiti, su debiti. Zang ha detto che sulla questione stadio il Milan ha cambiato quattro proprietà e quindi non si capisce cosa vuol fare. Beh, c'è chi cambia quattro proprietà e c'è chi rifinanzia il debito per la quarta volta. È chiaro il cinesino di Viale Padova? Perché non torni da Paparino, il cinesino di Viale Padova? Fai un viaggio a trovare Paparino? Portagli la Coppa che vincerete sicuramente sabato a Paparino a fargliela vedere. Portagliela in Cina. Ho i miei dubbi che gliela porterai. Gli mandi la foto, vero? Whatsapp. Chiuso l'argomento, ma non chiuso l'argomento perché io lo riprenderò tutte le volte perché prima o poi, anzi, faccio mia una proposta, mi sembra di Ivano, adesso non vorrei sbagliare il nome perché non me lo sono segnato, comunque una proposta che ho avuto nel commento di stamattina che dice anziché fare proteste inutili, perché non si protesta chiedendo alla federazione di intervenire su questa situazione che oramai è patologica? È patologica. Perché le altre squadre non chiedono che si faccia chiarezza su questa situazione debitoria? Perché? E anche i tifosi dovrebbero farlo. Perché si tratta di una questione di competizione leale. Punto. Quindi io continuerò a battere su questo argomento. Mi spiace se pensiate che porti fortuna all'Inter, mi spiace se pensate che siano fake news, rivolgetevi al New York Times. Votate il sondaggio in community. Parliamo di noi, Moncada, Moncada lavoro. Allora, dai nomi che stanno uscendo, soprattutto sull'esterno destro, quindi sono usciti Pudisic e Ciucu, Eze, come si chiama, quello del Villareal, adesso non mi ricordo il nome. La mia idea, ipotesi, da prendere con le pinze, perché sono nomi che sono usciti, è che si viri sul 4-3-3. Perché prendendo un giocatore a destra come Pudisic, oppure come quello del Villareal, che sono due ali, ma due ali d'attacco, è impensabile andare a giocare con un 4-2-3-1, perché sennò dietro diventano pazzi. Quindi molto più probabilmente si vorrà andare a schierare un 4-3-3, quindi con un centrocampo più coperto. Poi avanzo una mia proposta al centrocampo, che mi sembra perfetta per noi, ma è una mia proposta, quindi rimane lì. Con davanti Pudisic, Leao e la punta che bisognerà prendere, ovviamente con Girouda a non dimenticare, oppure con quello del Villareal, Ciucu, Eze, come si chiama, Leao e la punta davanti. Dietro. Spero che si riesca a arrivare, che non sia troppo tardi, ad arrivare a Tilemans, che sarebbe un ottimo sostituto di Benasser, quindi Tilemans, Tonali e un altro centrocampista. Prendendo Tilemans a zero, si può spendere qualcosa per il centrocampista. Che a questo punto però dubito sia Kamada, perché con un cambio di modulo che va sul 4-3-3, direi che c'è di meglio rispetto a Kamada in quel ruolo. Direi che persino Salamaker non sarebbe da sottovalutare in quel ruolo, in un 4-3-3 così congeniato, almeno che non lo si voglia cedere per fare plusvalenza. Però diciamo che Kamada non mi sembra la figura ideale per giocare con un 4-3-3. E allora chi lo sarebbe? E qui è la mia proposta. Per me è un centrocampo che sarebbe perfetto per fare il 4-3-3, sarebbe Tilemans, che mi auguro non sia troppo tardi, e non capisco perché si sia partiti così tardi sui parametri zero, sapendo che abbiamo bisogno dei parametri zero, perché non possiamo spendere 20-30 milioni per ogni giocatore che ci serve. Quindi più giocatori prendiamo a parametro zero, più budget abbiamo da spendere per esterno-destro, eventualmente punta o centrocampista. Io credo che saranno due i giocatori che potremmo prendere utilizzando il budget. Quindi o Cukomoese o Pulisic, o il centrocampista e o la punta. Ma qui serviranno dei parametri zero, come è Tilemans, ad esempio. E non capisco perché abbiamo aspettato tutto sto tempo, tant'è che indica probabilmente lo perderemo, perché ha già l'accordo con la Roma, e Tilemans se lo prenderemo sarà andata bene. Però mi sfugge il motivo per cui non ci abbiamo pensato prima ai parametri zero. Strano. Come se qualcuno già sapesse come sarebbe andata a finire la storia. Comunque, speriamo di fare il tempo almeno a prendere Tilemans. Chi è il giocatore che io metterei lì? È un altro parametro zero. Ha già giocato in Italia da diversi campionati. È un mancino. È un giocatore che con Tilemans davanti alla difesa, Tonari a destra, Rabiot a sinistra, fisico, gol, quest'anno ne ha fatti tanti, e perfetto per quel ruolo, farebbe un centrocampo di sicuro livello Rabiot, parametro zero. Ma anche lì abbiamo dormito. Speriamo che non sia troppo tardi. Sarebbe un centrocampo di assoluto livello, assoluto, che avrebbe una buona copertura per eventualmente il trio d'attacco, che sia Pulisic, che sia Ciumquenze, Leao e la punta. Io spero che questa sia l'impostazione. Adesso, come vedete dalla copertina, Moncada e Furlani dovranno lavorare e portare i fatti. Portare i fatti. Noi adesso vogliamo questo. Vogliamo il salto di qualità. Vogliamo i fatti. Speriamo di riuscire a chiudere più parametri zero possibili per i ruoli che di complemento. Quindi, i Tillemans, Kamada, ripeto, è difficile, perché se si cambia modulo non ce lo vedo bene, e allora ci sarebbe Rabiot. In difesa? Di che è andato? Bisognerà cercare un altro parametro zero se si vuole fare uscire Gabbia o Balloture. Quindi, adesso, giudichiamo alla prova dei fatti i ragazzi. Ragazzi, io non torno indietro sulla questione dei neri assurdi. Non torno indietro. È una battaglia di giustizia, quindi è una battaglia che io vado avanti a fare e voi, se siete superstiziosi, toccate tutto quello che potete toccare, ma questa è una cosa che dovremo fare assolutamente emergere. Se siete d'accordo, mettete un like, campanella per le notifiche, iscrizioni al canale, forza Milan sempre e forza Pep, forza Pep, forza Pep. Grazie. Grazie.